ai ragazzi e alle ragazze che stanno passando un periodo complicato della propria vita quello che consiglio inizialmente di parlarne con la persona che avete accanto con chi volete bene con chi state contenti felici di chi vi fidate spesso ti senti piccolino immerso in mezzo a un mondo che è molto molto più grande di te parlatene perché parlare aiuta vi aiuta a liberarne anche io ho avuto paura di parlarne perché spesso non vuoi mettere non vuoi far preoccupare la persona che hai accanto però va fatto lo psicologo è una persona che può aiutarti dovete aggiustare il presente per avere un futuro meraviglioso e fatevi questo regalo aiutatevi prima da soli perché vi dovete dare la forza di farvi aiutare e quindi già quello è un aiuto che state facendo voi a voi stessi e poi fatevi aiutare dagli altri grazie a tutti grazie a tutti